Ho avuto praticamente problemi ai denti perché avevo tutte le capsule, davanti al paciente avevano tutte le capsule e allora ho deciso di trovare il sistema di sistemare tutta la bocca perché mi mancavano anche delle capsule e allora per quello sono venuto a sistemarmi la bocca definitivamente per sempre. Facevo fatica a masticare, poi si rompevano sempre ogni pezzetto, ogni tanto si tratta via il pezzo di capsula o di dente e allora praticamente ho deciso definitivamente di venire giù a fare il lavoro definitivo ben fatto. Praticamente mi hanno strappato tutti i denti, tirato via tutte le capsule, tutta la bocca completa ho rifatto. I personale della clinica erano tutti gentilissimi, molto accoglienti, ti mettevano a tuo agio. Se vedevi che eri in difficoltà ti aiutavano a uscirne molto professionali. Vorrei spiegare un po' quello che ho fatto io e il trattamento che ho avuto molto professionale che è una cosa che devi fare, se devi farlo definitivamente fallo perché ne vale proprio la pena perché lavorano molto bene. Grazie. 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 Grazie.